e salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina io sono nonsigno 91 e sono il cuoco folle oggi voglio proporvi una ricetta piuttosto sfiziosa i ceci croccanti al forno ed ora introduciamo gli ingredienti per la nostra ricetta gli ingredienti sono i seguenti iniziamo con i ceci il dosaggio a vostro parere io ne utilizzerò 200 grammi precedentemente messi ad ammollo un'intera notte scolati messi a bollire successivamente stesi su un canovaccio per essere raffreddati asciugati e infine se possibile privati della buccia le nostre spezie che sono la paprika il prezzemolo l'erba cipollina e il rosmarino il pepe il sale quanto basta infine olio extravergine d'oliva adesso prepariamo il nostro mix di spezie quindi aggiungiamo la paprika il prezzemolo l'erba cipollina il rosmarino ed infine il pepe e giriamo per bene in una ciotola versiamo un filo d'olio nella ciotola in cui abbiamo versato l'olio aggiungiamo i ceci e mescoliamo dopo aver mischiato ceci ed olio aggiungiamo il mix di spezie ed il sale adesso bisogna distribuire i ceci in un recipiente rivestito con carta forno è il momento di cuocere a 200 gradi io utilizzerò la friggitrice ad aria voi in alternativa potete scegliere se sempre utilizzare la friggitrice ad aria oppure il forno statico ci siamo abbiamo fatto cuocere per mezz'ora ecco qui i nostri ceci croccanti è il momento dunque di servire i nostri ceci in un piatto ceci croccanti al forno questo è il risultato finale bene adesso assaggiamo e quindi buon appetito croccanti deliziosi e si sciolgono in bocca sono veramente deliziosi questo piatto è perfetto come antipasto come contorno per condire zuppe per condire minestre perfetto perfino come aperitivo come snack o magari al posto di pop corn se volete guardarvi un film davvero ne potete fare qualsiasi uso che volete quindi io ve la suggerisco questa ricetta voi provatela e fatemi sapere come viene con questo dunque posso concludere il video se il video è di vostro gradimento ricordatevi di lasciare un bel like commentare e condividere questo aiuterà ad alimentare l'algoritmo di youtube permettendo al mio canale di poter crescere ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette le ricette del cuoco folle su amazon link giù in descrizione noi dunque ci vediamo al prossimo video ricordatevi che se vi sembra buono mangiate lo ciao 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 Grazie per la visione!